Buonasera e benvenuti a questa edizione del Tg2000, vediamo subito i titoli di oggi, lunedì 19 agosto. Messa e sprizze le parole di padre Andrea sull'iniziativa che ha sollevato tanto scalpore. Al via il paese dei Balocchi consegnata la fascia da sindaco al giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone. La festa dell'aquillone di Urbina è sempre più vicina ai nostri microfoni Berto Crinelli. Dal 22 al 25 agosto torna Piobbico il palio dei Brancaleoni contesa della Pannocchia. E apriamo l'edizione di oggi da una notizia che possiamo definire diventata ormai virale, si tratta di Messa e sprizze, un'iniziativa proposta dalla parrocchia universitaria ai nostri microfoni. Padre Andrea ci spiega in cosa consiste questa iniziativa e qual è l'obiettivo. Si sta molto parlando in questi giorni di questa Messa e sprizze, un'iniziativa nata qui ad Urbino da padre frate Andrea Ricatti. Come è nata questa iniziativa e perché era stata proposta? Allora l'iniziativa è nata già dallo scorso anno che dopo la Messa noi offrivamo un aperitivo per i ragazzi. Poi quest'anno siccome sappiamo che la pastorale universitaria qui a Urbino cambia in continuazione perché arrivano nuove matricole, nuovi studenti, allora per far conoscere l'iniziativa ai nuovi avevamo pensato a questa locandina. Pensando anche a una locandina un po' giovanile avevamo pensato a questo titolo. E poi ovviamente è successo tutto, insomma, il clamore, siamo diventati virali, diciamo così. Quello che si voleva dimostrare è che la Chiesa è accoglienza. L'intento era quello di far conoscere ai giovani le attività della Chiesa. Quindi adesso che piega prenderà la cosa? Beh, innanzitutto ci siamo confrontati anche col Vescovo, proprio per evitare, anche per stare accanto anche a chi ha una certa sensibilità, ha sottolineato, insomma, di togliere Messa e Sprizzi insieme. Allora abbiamo pensato di cambiare il titolo, di rivedere la locandina. Però l'iniziativa rimane comunque, insomma, anche perché noi offriamo Sprizzi analcolico, ma l'intento è proprio sia di vivere la liturgia, ma anche di vivere la convivialità, la comunità, la fraternità e proprio quello che i ragazzi desiderano e cercano qui, una certa anche accoglienza. Quindi è cambiato il titolo, ma l'evento resta. Ricordiamo, quando ci saranno questi momenti religiosi e conviviali qui in città d'Urbino? Ecco, noi riprenderemo dall'8 settembre, perché i ragazzi tornano appunto da settembre con la sessione degli esami e poi sarà ogni domenica dall'8 settembre alle 19.15 e poi dopo la Messa a seguire la pericina. Cambiamo completamente tema, perché tra carenza idrica e bombe d'acqua la situazione nelle Marche è diversa da nord a sud. In una intervista telefonica a Stefano Aguzzi, l'assessore all'ambiente e alla protezione civile della regione, sottolinea come il problema sia la carenza delle piogge. Erano stati pronosticati grandi eventi atmosferici che non si sono ancora verificati. Il prossimo incontro della protezione civile è in programma per giovedì mattina per valutare la situazione in base alle potenziali piogge. La situazione nella provincia di Pesaro Urbino è però migliorata rispetto alla scorsa settimana. Aguzzi puntava già da oggi a un ridimonosionamento dell'utilizzo del burano, ma si valuterà la situazione nella mattinata di giovedì. Situazione che nella provincia di Pesaro Urbino, ripete, non è preoccupante. Nel sud delle Marche la situazione è diversa, vista l'assenza di fiumi, si rivaluterà tutto nel giro dei prossimi giorni. E cambiamo completamente tema, parliamo dell'aeroporto Raffaello, l'aeroporto delle Marche. Il Presidente della Regione Francesco Acquaroli sottolinea che se nel primo trimestre del 2024 si è cresciuti del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in un contesto dove il traffico italiano è cresciuto del 12% e quello europeo del 9%, questo trend si è confermato anche negli ultimi mesi. Infatti i risultati di luglio vedono un 20% di crescita con significativi incrementi degli arrivi stranieri. Lufthansa ha comunicato che a luglio sono stati mille gli arrivi da oltreoceano, New York, Boston, Chicago e Toronto e 1600 dal nord Europa. Acquaroli sottolinea inoltre come la Regione Marche stia uscendo dalla condizione di isolamento a cui era stata relegata per anni. Tutto questo grazie alla collaborazione fattiva con l'amministratore delegato dell'aeroporto Alex Dorsogna. E si è svolta la prima serata della festa del Paese dei Balocchi che ha visto la consegna della fascia da sindaco al giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone. I giorni in cui la festa continuerà sono stati spostati al 21, 22, 23 agosto a causa del maltempo, ma vediamo intanto com'è andata la prima serata. Si è aperta sabato 17 agosto la ventesima edizione del Paese dei Balocchi in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. L'ondata di maltempo prevista per questi giorni ha però modificato il calendario della manifestazione con le serate che riprenderanno mercoledì 21 e termineranno venerdì 23 agosto. La serata inaugurale si è svolta regolarmente con laboratori, musica, giochi, teatro e tanti spettacoli. Clou della serata è stato l'incontro con il giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone che ha ricevuto anche la fascia di sindaco di questa edizione. Intanto mi ha meravigliato molto l'essere stato nominato per questa onorificenza. Poi mi sono accorto invece che c'è una manifestazione dal grande fermento comunitario e questo mi piace tantissimo. Io amo le comunità che si riuniscono, questo è un luogo che si apre, che parla tra persone e quindi sono ancora più onorato. Poi c'è anche il tema quest'anno, infiniti. È un tema a me molto caro perché in qualche modo è come se anch'io raccontassi delle storie che non finiscono, delle storie che ribaltano le prospettive. Quindi essere sindaco questa sera qui, in questo contesto, con questo tema è ancora più affascinante. Il messaggio che voglio lanciare è che bisogna sempre guardare gli altri con curiosità, non bisogna mai essere superficiali. Noi siamo distratti in questo periodo storico, dovremmo ricominciare a guardare quello che sta vicino a noi. scorgeremo dei tesori incredibili. Ecco, questo è il messaggio che voglio lanciare. Ai ragazzi vorrei dire di perseguire i sogni, però i ragazzi da soli non ce la possono fare. Quindi c'è una responsabilità nostra, dobbiamo essere noi grandi a preservare, a aprire il campo, a creare reti di protezione. A loro posso dire che sognando si può cambiare il mondo. Ecco, quello che voglio dire a loro. E' finito i virati coraggiose, l'abbiamo sentito adesso da un grande giornalista come Domenico Iannacone che ci ha raccontato delle storie di virati coraggiose, quindi era proprio il nostro tema, cioè quello che volevamo parlare di queste persone che hanno avuto, nella vita, periodi difficili, poi si sono rinate e hanno virato in maniera coraggiosa diventando anche degli esempi per gli altri. Chiaramente con gli spostamenti dovuti alla pioggia previsti, venerdì 23 verrà qui sul palco Fabrizio Macchi che è un paralimpico, quindi una bella storia difficile di una virata importantissima e sarà nominato cittadino onorario del Paese dei Balocchi. 20 anni del Paese dei Balocchi è proprio questo, è questo che siamo riusciti a fare, cioè tante cose insieme, dalla musica che in questo momento sentiamo forte, però diciamo serate come con Domenico Iannacone, tanti giochi per bambini, laboratori, insomma, veramente è uno spazio per tutti. Cambiamo teme, parliamo di infortuni e malattie professionali, lo facciamo con una nota di CISL Marche. L'Inail ha reso noti i dati del primo semestre 2024 per quanto riguarda gli infortuni, in forte diminuzione il numero degli infortuni mortali sul lavoro, in crescita le denunce di malattie professionali, mentre è sostanzialmente stabile il dato degli infortuni. Prosegue dunque l'azione di mobilitazione e di sensibilizzazione sostenuta da CISL Marche, che attraverso il segretario generale Marco Ferracuti ribadisce l'importanza di tenere alta l'attenzione ogni giorno per contrastare questa scia di sangue, come da impegni presi. CISL Marche si aspetta che la giunta regionale convochi presto il tavolo con le parti sociali e incrementi le risorse a disposizione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. E ci spostiamo nella città di Urbino, dove è sempre più vicina la festa dell'Aquilone, come da consuetudine si svolge la prima domenica di settembre, quattro i giorni di grande festa. Vediamo come le contrade si stanno preparando per questo grande evento, con le parole di Berto Crinelli. Sempre più vicino alla festa dell'Aquilone, cosa significa questo countdown, questo avvicinarsi della prima domenica di settembre per i contradaioli? Significa sinceramente che siamo leggermente in ritardo, perché quest'anno non è come certi anni che la festa è il 5 o il 6 di settembre, è il primo, perciò addirittura quest'anno la festa inizia in agosto, alla fine di agosto. Però sicuramente i contradaioli ci sanno fare e porteranno avanti la festa, porteranno avanti gli Aquilone che già hanno iniziato, chi ha iniziato a fare gli Aquilone di bellezza, il monte ha iniziato, ci stiamo vedendo. Però si fatica, si fatica a portare la gente in contrada e di conseguenza gli Aquiloni sono sempre meno. Però sul finale tutti quanti hanno piacere di far volare l'Aquilone, perché far volare l'Aquilone è una cosa bellissima e poi in mezzo a tantissimi altri Aquiloni, circa mille, tutti quanti vogliono il proprio Aquilone. Perciò la festa sarà sempre un successo, anche se ci sono delle piccole pecche. Poi tutto si può migliorare, cercheremo di proporlo, di proporre cose nuove, vedremo un po'. Quest'anno sarà difficile, ma il prossimo anno magari si riuscirà. Serve tempo per fare gli Aquiloni, soprattutto alcuni tipi in gara, come l'Aquilone di bellezza richiede molto lavoro. Il monte cosa sta confabulando senza svelare troppo? Allora, anche qui stanno tutti partendo in ritardo, io leggermente mi sono avvantaggiato per l'Aquilone di bellezza piano, perché avevo del tempo. Però ci sono varie tecniche, cioè io magari lavoro per un mese, due o tre ore al giorno, c'è che invece gli ultimi giorni per l'ultima settimana ci lavorano dieci ore al giorno, magari sono in tanti. Perciò tutti quanti riusciranno a fare il loro Aquilone, sia tridimensionale che quello piano. Perché poi tutte le contrarie lo dovrebbero fare, perché magari fare solo quello piano, perché è uno spettacolo vedere all'inizio della gara, prima della gara, volare una decina di Aquiloni piani molto scenografici. Perciò l'impegno ci vuole e purtroppo ci dobbiamo impegnare. Un aspetto importante della festa atteso da molti sono scherzi e sfide tra i contradaioli delle diverse contrade. Sono già iniziati o c'è già idea di qualche piccolo dispetto? Ma io direi proprio di no, perché anche l'anno scorso ci sono stati vari problemi, però io dico che per quello c'è sempre il tempo, perché poi gli scherzi vengono fatti proprio l'ultima sera, vengono fatti il venerdì sera prima della festa, dopo che c'è stata la riconsegna, perciò quelli non mancheranno e il monte sarà sempre pronto, anche se perché è il più aggredito in maniera simpatica e gogliardica, però noi rispondiamo sempre con le nostre cose gogliardiche. Ci vediamo alla festa, è il primo di settembre, ma non solo, perché ci sono varie iniziative. Il sabato ci sono tutte le gare individuali, perciò anche la Contrada del Monte si trova in difficoltà a trovare chi fa le gare individuali, perché oltre ad essere impegnative c'è un po' di emozione, perciò la gente un po' si tira indietro. Però troveremo qualcuno. Poi c'è il sabato pomeriggio, poi c'è il venerdì sera la riconsegna che sarà fatta, la Contrada di Hong Kong che ha vinto l'edizione passata la fa la fortezza, è un posto bellissimo e sicuramente sarà una festa molto riuscita. Il giovedì iniziano i ragazzini al Collegio Raffaello, perciò anche quella sarà, quella ormai nei 15 anni che la facciamo è bellissima. Tutte le Contrade hanno un patrimonio inestimabile, perché abbiamo nelle proprie Contrade 10-12 aquiloni fatti dai ragazzini negli anni passati, perciò in futuro, magari anche quest'altro anno che è il settantesimo, si potrebbe fare una bella mostra. E parliamo ora di due ruote, una grande partecipazione per la gara ciclistica cadeccoria giovanissime per il terzo trofeo presidentissimo Enzo Canuti a Talacchio di Vallefoglia. Canuti ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del ciclismo, soprattutto grazie al suo impegno nel settore giovanile. La gara è organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Kaiser Team di Bottega, capitanata da Federico Canuti e anche patrocinata dall'amministrazione comunale di Vallefoglia. Hanno partecipato anche quest'anno circa 130 ciclisti tra ragazze e ragazzi, provenienti da diverse regioni. I giovani atleti si sono confrontati su un percorso di circa 800 metri, interamente sviluppato nella zona industriale di Talacchio. E rimaniamo sempre a Vallefoglia perché il sindaco Palmiro Ucchielli informa che da domani 20 agosto è possibile richiedere il tesserino venatorio per la stagione 2024-2025 presso l'ufficio protocollo della sede municipale in via Rampi 4 a Montecchio di Vallefoglia, l'ufficio aperto dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. E ci spostiamo ora nella città di Piobbico. Sarà un weekend di festa perché dal 22 al 25 di agosto torna il Palio dei Brancaleoni contesa della Pannocchia. Lo scopriamo insieme. Buon pomeriggio. Ci troviamo nel cortile del castello Brancaleoni di Piobbico per comunicare che dalla prossima settimana cominceranno i festeggiamenti a Piobbico. Si parte il giovedì sera e il venerdì sera con le due visite animate dove daremo modo a tutti i visitatori di ammirare le bellezze del castello Brancaleoni in notturna per poi proseguire il giorno sabato con le tradizionali taverne dei Rioni. e nella stessa serata ci sarà anche tutto il borgo pieno di attrazioni sia per grandi che per piccini e l'investitura dei Cavalieri. La domenica il tradizionale corteo storico e la disfida del Palio della Pannocchia con tanti giochi e il gioco degli anelli che chiaramente è quello più tradizionale per poi proseguire il giorno il weekend del 31 e 1 settembre con il polentone e la carbonara ma non finisce neanche il 1 settembre perché il 14 e 15 settembre ci sarà comunque il corteo per l'elezione del Presidente del Club dei Brutti. Finisce tutto metà settembre ma intanto ricominciano ad invitare ai primi eventi per poi vederci a più a più. E continuiamo ancora con gli eventi e gli appuntamenti. Scade il 23 agosto il termine per partecipare all'iniziativa promossa dal Giardino delle Voci in collaborazione con il Rossini Opera Festival. Si tratta di una settimana di musica, canto e divertimento in compagnia di Rossini per bambini dai 6 ai 9 anni presso la scuola secondaria Brancati. E segnaliamo mercoledì 21 alle 16 l'ultimo dei concerti di Bel Canto in programma al ROF 2024 al Teatro Rossini. Ne sarà protagonista Daniela Barcellona accompagnata al pianoforte da Alessandro Vitiello. E sempre il 21 di agosto ci spostiamo a Pieve di Cagna per l'appuntamento con il Festival Piazze che nel cortile delle scuole vedrà il primo secondo con Denis Campitelli. E sempre mercoledì a Pieve Santo Stefano di Gaifa tornano i mercoledì della Pieve dalla mattina trekking per poi passare nel pomeriggio a tante attività per conoscere la storia divertendosi. E per questa sera è tutto io vi ringrazio di essere rimasti in nostra compagnia vi lascio ora le previsioni del Meteo 2000 vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per martedì 20 agosto Cielo molto nuvoloso coperto al mattino con rovesci temporaleschi miglioramento del pomeriggio venti deboli nord orientali mare poco mosso temperatura in calo A presto! 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 Grazie a tutti.